Se ci sei buttati online perché io butto la pasta O meglio, oggi ti faccio le melanzane in carrozza Allora lo sai, io sono centina nera di mozzarella in carrozza Ma con le melanzane in carrozza da quel tocco in più la mia arte Devi prendere due melanzane, un po' di farina, 400 grammi di pomodoro Mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, sale, pane grattugiato, olio extravergine Due mozzarella, due uova, mezza cipolla bianca, un cucchiaio di zucchero, pepe, olio per friggere E ovviamente una bottiglia di vino bonus Allora intanto, affetti le mozzarella e le lasci colare per 30 minuti in modo che risultino asciutti Lavi le melanzane, le asciughi e togli le estremità E tagli a fette, il più possibile rettangolare, circa mezzo centimetro di spessore Le sali, le dispone a strati su uno scolapasta e le lasci spugnare per 30 minuti Porti a ebollizione acqua, scotti per 30 secondi i pomodori Li lavi, li incidi con qualche taglio verticale Poi li scoli e li passi sotto l'acqua fredda Li peli, li tagli a dadini e li sali Sbucci la cipolla senza piangere troppo e la triti alla cazzo di cane Grossolanalmente non riesco a dire Prepari la salsina agrodolce, riscaldi in una padella tre cucchiai d'olio extravergine Versi la cipolla tritata, sala leggermente Soffriggi fino a quando diventa trasparente Ci metti i dadini di pomodoro e un po' di zucchero E mescoli fino a quando lo zucchero si è sciolto Mezzo bicchiere di aceto e di vino bianco E fai sfumare la salsa agrodolce di pomodori a fiamma vivace Ora, metti una fetta di mozzarella tra due fette di melanzane Le passi nella farina, poi nelle uova sbattute E infine nel pan grattato Riscalda olio abbondante per friggere in una padella a bordi alti Appunto fai fringere le melanzane Le giri da una parte e dall'altra Poi le scoli bene e disponi su un piatto Foderato di carta assorbente Per eliminare l'olio in eccesso Taglia metà le melanzane in carrozza E le servi calde con la salsina agrodolce di pomodori Oggi sono sicuro di prendere quattro sì dai miei giudici Se vuoi vedere come viene bene la ricettina Vai sul gruppo Facebook del DDT Su Instagram e ovviamente sul canale YouTube Dove c'è tutto spiegato Ma ora, regia Cosa ne pensi del mio piatto? Oggi guarda, vado ad occhi chiusi Stai scherzando? No Questo non è un gioco Siamo qui per fare questo lavoro E tu porti questi piatti qui Che non ha nessun senso Non sono pensati Infatti sono un po' ridicoli La melanzane in carrozza Noi siamo dei professionisti qui Per fare questo lavoro Tu non hai rispetto per noi Presentando questi tipi di piatti Sei pensato, Bastianich Questo piatto fa schifo È un insolto Ok? Fuori